Prende sempre più corpo l'ipotesi che a causare la morte di Alessandro Di Nino sabato scorso sia stata una dose eccessiva di stupefacente, molto probabilmente cocaina. L'esame autoptico eseguito ieri mattina dall'anatomo patologo Ildo Polidoro all'interno dell'ospedale di Pescara dovrebbe dare la certezza definitiva una volta che sarà arrivato il risultato dell'esame tossicologico e che dunque sarà redatta la perizia tra 60 giorni. Ma nonostante un primo tassello sembra essere stato messo a posto, il mosaico delle ultime ore del ventunenne resta ancora incompleto. Cosa sia accaduto nella notte fra venerdì e sabato scorso all'interno della camera d'albergo dell'hotel Holiday sulla riviera sud di Pescara resta ancora un giallo. Il fascicolo aperto dalla procura adriatica per morte in conseguenza di altro reato è a carico di gnoti mentre i carabinieri di Pescara stanno lavorando per ricostruire le ultime ore del ragazzo prima che attorno alle 6 del mattino l'amico romano desse l'allarme facendo intervenire il portiere dell'albergo non essendo riuscito, questo il suo racconto, a rientrare in camera dopo essere uscito a comprare le sigarette. Quello che è certo, e lo ha confermato anche l'avvocato della famiglia di Nino Edgardo Ionata, è che il ragazzo non è morto per le ferite riportate agli arti inferiori e per le quali è stato ricoverato in ospedale prima di entrare in rianimazione dove è poi ispirato. Avvolto nel mistero al momento anche l'SMS è inviato da Alessandro al papà da un numero di cellulare che però non è quello del ragazzo. Se alla base del decesso c'è un overdose, chi ha ceduto la droga al ragazzo e perché si trovava in una camera d'albergo a qualche chilometro da casa. Tutte domande a cui gli investigatori stanno cercando risposte così come risposte le attende la famiglia che intanto nel pomeriggio darà l'ultimo saluto ad Alessandro nella chiesa del rione Alcione alle ore 17 dopo che ieri al termine dell'autopsia la procura ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari per consentire di celebrare il funerale.